la lombarda di discutere una sanità basata sulla prevenzione i paesi europei hanno dimostrato che non basta saranno usati ancora per fare profitto sia come lavoratrice la gente del sistema sanitario italiano oggi è una giornata importantissima perché in tutta italia si sta costruendo si arroccano a difesa del profitto a difesa dei pochi, a difesa di quei 187 mila miliardari che hanno aumentato i loro profitti e accendono il 31% durante la pandemia mentre le fasce popolari avevano difficoltà ad arrivare alla fine del mese non mi rinistevano, non sono stagli, mi potrebbero rinmışere dispostare per le studenti Domenico in Indonesia! E' il pomembale! Il pomembale è il agricultorio l' westlleria dell'interno che mettono suWe. La chiamata! E' il traditore! Grazie a tutti. Grazie a tutti.